Ragazzi prima di iniziare il video io ci tenevo a dirvi che ho aperto un server Minecraft in questi giorni e se volete passateci, se volete giocare con altri giocatori io cercherò di essere il più attivo possibile e di monitorare tutta la situazione il più tempo possibile insomma passateci e divertitevi con altre persone Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA V Online e oggi ragazzi sono qui per fare un diciamo cazzeggio insomma in realtà dobbiamo semplicemente come avrete potuto vedere dal titolo e da miniatura portare il centro operativo sullo yacht è una cosa che non è molto facile da fare dato che il centro operativo è pesantissimo e il centro operativo non è tanto facile da trasportare e lo faremo oggi con Zadri96 Bella e lo faremo con il nostro stile cazzeggiando e divertendoci Ragazzi prima di iniziare il video io vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti iscrivetevi anche al canale di Zadri96 uccidetelo e iscrivetevi soprattutto lasciate un bellissimo like a questo video mille like ragazzi per questo video in questo modo capisco che mi supportate in questo modo mi supporterete e capisco che questi tipi di video vi piacciono ragazzi commentate qui sotto facendomi sapere che cosa ne pensate e condividete questo video sui vari social network soprattutto se volete darmi se volete darmi dei consigli su che video fare i consigli sono ben accetti bene ragazzi ora io chiamo il mio meccanico di fiducia quello invisibile che quando ti consegna l'auto non si sa come fa c'è lo sceriffo che vuole passare passi passi sceriffo passi non dobbiamo fare nulla di legale oggi non ti preoccupi oh guarda che mi spaccano la macchina non appena nulla di legale ho detto a quello sceriffo ma vabbè ho preso la macchina nuova giusto perché non l'ho mai testata e quindi colgo l'occasione di testarla un attimino e me l'hanno già spaccata tra l'altro andiamo dallo yacht di Adriano in questo modo lui ci presta il suo yacht e vediamo di investire questa persona perché il mio yacht eeeh ma l'ho ucciso madonna due due oh non sono morti no che ho fatto lo strike dai ma va guarda che mi sparano il missile è sicuro ho fatto uno strike che la macchina si è riempennata il yacht sta nella zona diciamo più movimentata se vuoi lo sposto eh sì se lo puoi spostare magari spostalo verso Forza Uncuto ok ragazzi sono qui di fronte allo yacht di Adriano ora Adriano scendi dallo yacht perché ti darò il compito più facile perché quello più difficile lo devo fare io ovvero vado a prendere il Cargo Bob perché ci aiuteremo con insomma useremo il Cargo Bob per spostare il centro operativo da una parte all'altra vieni scendi e io vado a prendere il centro operativo ok ho richiesto il centro operativo vediamo dove me lo mette eh sta venendo uno che non so se che vuole fare e dove mi ha messo il centro operativo? dove sta quello con la pc praticamente io mi devo andare a far ammazzare io aspetto che passa questo qua e poi vado a prenderlo così io non tocco lui lui non tocca a me stiamo a posto tutti quanti ecco ce l'ho qua bello parcheggiato sul ciglio della strada sì al ciglio oh chi cazzo è che mi sta a sparare? ma chi è? c'è uno con la moto ma chi è? nell'elicottero di rinforzo era guarda tu hai spostato lo yacht dall'altra parte che era la parte più movimentata ma a quanto fare non è bene ok parcheggiamo il centro operativo qua nel frattempo mi tolgo la polizia e Adriano si prenderà il centro operativo mobile e io dovrò un attimo andare a prendere il cargo bob il cargo bob ok ragazzi in teoria eccolo qua il cargo bob finalmente dopo tante lotte per far allontanare quello là non è vero sta allontanato da solo siamo riusciti a prendere questo cargo bob eeeh beh facciamo subito una prova per vedere se non abbiamo perso la mano e agganciamo questa macchina che mi sono portato io vedi ah e riportala qua al secondo tentativo subito ci sono riusciti ok dato che stiamo che sto con la macchina ma tu che ti sei messo in mezzo in mezzo alla strada? eh no mi sono messo sotto perché c'era la gente che disturbava ah quindi sarà ancora più difficile beh ripeto dato che stiamo metto la macchina mia sullo yacht cerchiamo di metterla in questo buchicchio qua ok forse non è andata come speravo l'hai proprio buttata ok ora proverò ad agganciare adriano che sta con il mio cargo bob forse non ci riuscirò perché stai con la passiva togli la passiva che me la levo pure io si aspetta adriano sgancia il coso che devo agganciare uno alla volta lo devo spostare uno alla volta agganciamo il camion e l'abbiamo agganciato ora primo passo e non fare puttanate oddio se ne va verso avanti se ne va verso avanti troppo pesante sto coso non c'è un po' di mal di mare pur non estando nel mare oddio che è stato un bug ok vediamo staccati no 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 io l'avevo staccato quando eri sulla piattaforma della H in fondo al mare beh io rimango sotto col centro no dobbiamo spostare il centro per la tia e mi sa che mo ci serve il kraken per raccoglierlo effettivamente no scendi scendi mettiti sulla riva cerca di salire prova scendi 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 ma in teoria ok ma che c***o sono stato risucchiato ah ok ero sul cargo Bob ah sei tu che mi hai trascinato giù allora mo andiamo a riprendere di nuovo il cargo Bob al centro operativo se mi fai salire lo posso se mi fai salire lo posso far vedere mo buttatevi pure te nell'acqua così facciamo la compilation di fail atterra un po' atterra no non atterrare così o fa me lo guiderà a me ok si oh 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 ma che micchia è sei bloccato tutto qua no 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 non mori come che str***o oddio ragazzi entrate in un veicolo mettete la prima persona e poi premete sempre XXX pare che tipo le sospensioni si sono rotte e sta traballando tutta la macchina è incredibile c'è uno che si chiama nonno cotoletta tradotto dal tedesco che sta venendo verso di me minaccioso con la moto ok vediamo un camion che si è messo in mezzo alla strada c'è una coda manco che si crea non si crea manche caselloni beh ci riproviamo non è tanto non è difficile l'agganciare ma è tanto difficile il fatto dell'atterraggio dipende da te quello testa oh no no non cade ma è troppo pesante sto tutta la gente che ci va contro non sballottolare troppo e appunto e se no si stacca sto a fare sali sali vai piano 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 no no non mi staccato non mi staccato non mi staccato ma porra sono andata a far compagnia all'altro guardalo che è ria minaccioso sulla costa occhio stavolta userò una precisione chirurgica prima prendi quota dritto per dritto senza che vai avanti devi andare lento lento il punto è che io mi vedo ecco ok ora io ti vedo agganciato ti vedo agganciato eh pure io mi vedo agganciato non devi ondulare troppo se onduli troppo ma che vuole a me mi fai volando poi ti fermi no no non mi devi fa ondulare sto ondulare troppo calma non mi staccare non mi staccare non mi staccare non ti sto staccato alzati staccati ora stacca ora si ci abbiamo fatto atterraggio perfetto finalmente è che tre semista brutta per la terza volta mamma mia non so come faremo sto coso rega è pesantissimo e non sono sicuro che il cargo lo possa agganciare c'è davvero non ho molte idee per poterlo portare chi c'è? la motrice ecco è morto addio ma che ce l'ho fatta st'elicottero ti sei girato hai visto? sei girata non ho incazzato non ho goteletta sta sparando aggancia sto coso aggancia sto coso deve agganciarlo devi agganciarti chi è che spara? agganciati maledetto ok l'ho agganciato ok ok almeno l'ho sganciato da quello però ora c'ho più calma no si sgancia oddio l'ho messo in piedi perché sta in piedi? oddio adriano vieni a guardare vieni a vedere eh vieni a vedere no non mi spaccano non me lo spostare auto di merda ho visto no sto nonno di merda oh ma mi sta fumando il car Bob c'è lo sta pilotando Bob Murray sto coso oddio che c***o è minchia è quasi l'avevi alzato si l'avevo alzato senza vieni che ti aggancio io vieni vieni che ti aggancio io vieni vaffan l'ho agganciato scendi dal cargo Bobbo l'ho ucciso a nonno cotoletta bene è fatto diventare una bistecca allora un cold on play vieni vieni ma perché da poter portare sto coso sullo yacht è diventato un ammazza le cotolette su sto gioco devo agganciare assolutamente questo coso venire nel mio veicolo il rimorchio originale l'abbiamo portato sullo yacht è quello che insomma ci tocca portare la cosa più lunga ok ragazzi siamo arrivati all'aeroporto di Trevor nuovamente sono le 4 del mattino sul gioco e ho fatto sfonare sto coso la mia intenzione era di mettere sto coso dentro il centro per la tv mobile però ci sono due piccoli problemi ma forse un po' piccolini non entra né in altezza né in larghezza cioè si vede occhio nudo sto coso che porto dietro è più grande del titan e l'altro piccolo problema è come aprire quel porticello bene allora dicevo se sapete come far aprire il titan scrivetecelo qui sotto nei commenti ma soprattutto ma soprattutto ma soprattutto se sapete come avere il cargo plane che è quello più grande e quindi lì è sicuro che ci entra in teoria il centro operativo mobile fatecelo sapere qui sotto nei commenti in questo modo noi cosa faremo andremo con il cargo plane o quello che è e cercheremo di far scendere il centro operativo mobile sullo yacht è una cosa molto molto difficile ma noi ci proveremo e ci riusciremo perché noi siamo il team pokemon azzurro pokemon azzurro ma che caro ragazzi se siete arrivati fino a questo punto del video io vi invito a commentare qui sotto nei commenti con l'hashtag nonno cotoletta perché non ha un senso ma in questo modo io capirò chi è arrivato fino a questo punto del video e chi lo ha visto veramente tutto e inoltre è perché ci ha rotto davvero tanto le scatole dentro la sessione questo maledetto nonno bistecca ci siamo riusciti in un certo senso ci siamo riusciti per metà ed era comunque una cosa difficile ok abbiamo fatto infatti 3-4 tentativi per poterci riuscire soprattutto con lag e con nonno cotoletta che ci rompeva la bistecca è stata un po' di quelle esatto ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se così è stato vi invito a lasciare un bellissimo like quindi arriviamo a 1000 like per supportarmi e per farmi capire che vi è piaciuto appunto ragazzi commentate qui sotto consigliandomi quelle cose che vi ho chiesto oppure consigliatemi qualche altro video da fare o che so altre cose insomma consigliatemi qualsiasi cosa diteci come vi è sembrato il video se vi è piaciuto consigliatemi un consiglio consigliatemi un consiglio consigliatemi tutto saluto Antonio e ciao ciao da che lo metto